Periodo no per gli under 17 Meridiana e Tanasoccer che perdono un altro. Scontro diretto per l'alta classifica. Al Ducatavosta passa il San Gregorio e Fatale si rivela come nel turno precedente a Grevina uno doppio K.O. nel giro di pochi minuti nel primo tempo. La possibilità di svoltare e riprendere la marcia fluida che nel girone d'andata aveva condotto al secondo posto del girone V i ragazzi del tecnico Paolo Pecora sarà il prossimo turno sempre in casa col Catani 80 di sabato 24 febbraio. Un ottimo intervento di Lancia in avvio su Egitto apre la serie di occasioni da un lato e dall'altro mentre su corner di Rapisarda il primo tentativo marcato a Tanasoccer è di onorato che costringe Laino a superarsi dopo assist di Romano. Al quarto d'ora si spacca la partita su un lancio dalle retrovie stavolta Egitto ha la meglio sul portiere di casa in uscita e fa 0-1. Passano pochi minuti e sul calcio d'angolo è Arcidiacono a centrare il bis. Per la meridiana Tanasoccer tutto più difficile e sembra un film già visto. Ci provano Razza su punizione neutralizzato dall'estrema avversario e su rimessa di Rodi con Serpentina di Romano. Due segnali di riscossa che però non produrranno gli effetti sperati come un diagonale di Razza lanciato dalla Pisarda che sfiora il legno sul finire di primo tempo. Frazione che si chiude con un prodigioso intervento di Lanza che salva sul tiro a botta sicura di Arcidiacono e che evita lo 0-3. La ripresa che vede l'ingresso in campo di Orendie tra i pali, di Tudisco per Romano e di Di Palma per Rodi si apre con una acrobazia da applausi di Razza sul laterale lungo di Vitale. L'Ainò salva il possibile rientro in partita dei Catanesi e rilancia il San Gregorio che per quattro volte va vicino alla chiusura conto ma deve fare i conti due volte con Orendie e due volte con l'imprecisione di Arcidiacono. Così, a pericoli scampati, la meridiana Etanasoccher ricomincia a costruire qualche pallone carico di speranza affidandosi però solo a Razza, qui su assist laterale di Tudisco, poi su punizione telefonata al portiere e infine su Gran Diagonale al termine di imbucata di Di Palma. Il finale che registra l'ingresso di Castelli è grasso e amaro e punisce oltremodo la MES. In pochi minuti segnano Di Stefano, Arcidiacono e Keita per uno 0-5 finale che manda in archivio un sabato da dimenticare ma da prendere come esempio per l'immediato futuro.